Ciao ragazzi da Vittorio, scusate per la domenica di riposo, in realtà ho registrato Lazio Lounge, podcast in inglese su Lazio. Oggi parliamo di Stefan Radu, ma prima, se sei un tiposo della Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che ricevano la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Me l'avete chiesto, quindi parliamo di Stefan Radu perché la vicenda diventa antipatica, oserei definire. Gli ultimi rumor sono che la Lazio non convocherà Stefan Radu per il ritiro di Auronzo e quindi l'avventura di Radu alla Lazio potrebbe terminare così, in malo modo, dopo 12 anni importanti. Radu è diventato uno dei simboli della Lazio, uno dei giocatori che ha sempre dato l'anima per questa squadra ed è brutto vederla finire così. Adesso non sappiamo perché ci sono vari rumors. Il principale sostanzialmente è che Inzaghi avrebbe deciso che Radu quest'anno non sarebbe stato il titolare per vari motivi e Radu non l'avrebbe presa bene, avrebbe chiesto accessione perché lui vuole giocare titolare, non si sente una riserva e da qui sono scaturiti i problemi perché Inzaghi non lo vede titolare e la Lazio per venire incontro al giocatore avrebbe detto se tu trovi una squadra puoi andare senza che paghi il cartellino per cui saresti come uno svincolato. Radu però non sta trovando una sistemazione in Italia anche perché non vorrebbe giocare contro la Lazio, all'estero al momento non c'è a mercato per cui la situazione è brutta. Però questo mi porta a un paio di considerazioni. Vale la pena non convocare Radu per il ritiro di Auronzo se non ha trovato un'altra sistemazione. Secondo me non ha senso. Insomma comunque si consente al giocatore di allenarsi, magari chi lo sa Inzaghi e Radu riescono a ricucire il rapporto che sembra deteriorato, non sappiamo che cosa sia successo. Però secondo me portarlo almeno ad Auronzo sarebbe una soluzione abbastanza logica. Per tanti motivi. Il primo è perché è vero, Radu quest'anno ha giocato meno del solito, qualche infortunio di più, il rendimento non è stato brillante come negli anni passati, però io vorrei ricordare che Philippe Luiz è stato a lungo fermo, Wallace è stato a lungo fermo, Basso è stato a lungo fermo. Se escludiamo a Cerbi tutti i difensori della Lazio hanno avuto lunghi stop per infortuni e non solo Radu. Per cui io non vedo molto la colpa di Radu. Sì è vero rispetto al passato Radu è stato più fermo, però ogni tanto può succedere. Poi il secondo punto è si parla tanto di ringiovanire la rosa, però Radu ha solo un anno in più di Acerbi. Parolo e Lulic sono più vecchi di Radu, lei va praticamente coetaneo, insomma il ringiovanimento vale solo per Radu e non per gli altri, non ha una grande logica. Insomma Lulic e Parolo sono più vecchi però loro possono restare nel rosa, Radu invece bisogna ringiovanire la rosa. Non ha una grande logica. Evidentemente c'è stato qualcosa dietro che ha creato questo problema fra le parti, fra Lazio e Radu, perché la teoria del ringiovanimento capite bene che vale fino a un certo punto perché allora bisogna parlare di Parolo, bisogna parlare di Lulic e via dicendo. E invece non succede. Quindi è evidente che c'è un'altra cosa. E il terzo punto è quello più pratico secondo me, ovvero perché non chiamare Radu il ritiro se al momento il sostituto di Radu non è stato comprato, perché al momento non c'è un giocatore che giocherà a sinistra al posto di Radu, perché Vavro gioca a destra, è un destro e ha sempre giocato in quella posizione, anzi lui ha giocato soprattutto nella difesa a quattro. Però manca un rimpiazzo di Radu, anche numericamente perché magari Inzaghi può decidere di far giocare Felipe Luis titolare sulla sinistra, ok ma se nella rosa esce un difensore centrale come Radu va rimpiazzato perché la Lazio è impegnata in tre competizioni e non si può pretendere che dall'oggi al domani un giocatore giochi tutte le partite perché ce n'è uno in meno in rosa. È vero, sarà aggregato Armini, ne parleremo in un altro video, però non si può pensare che Armini sia la soluzione di tutto. È molto giovane, sicuramente molto talentuoso e poi bisogna vedere che cosa succede a Wallace, perché se esce lui ovviamente poi sono due in meno in rosa rispetto all'anno scorso. Per cui capite che ci sono tanti motivi per cui Radu dovrebbe essere aggregato ad Oronzo. Poi magari va ad Oronzo e non è considerato un titolare, si cerca sempre di piazzarlo sul mercato e la Lazio cercherà un sostituito. Ma secondo me non c'è nessun motivo, anzi vi ho dimostrato tre motivi pratici per cui Radu dovrebbe andare ad Oronzo. E poi c'è quello sentimentale, insomma chiudere una storia così come quella di Radu e la Lazio in malo modo come questo è bruttissimo. La società dovrebbe uscire fuori e parlare, magari indire una conferenza stampa con il giocatore stesso e spiegare, se possibile, quali sono i motivi di questo litigio, di questa separazione così brutale, che ovviamente non fa piacere ai tifosi che sono legatissimi a Radu. Intendiamoci, non stiamo parlando di Paolo Maldini, non stiamo parlando di Alessandro Nessa, però Radu comunque, soprattutto nella gestione in Zaghi, è diventato un buon difensore, l'ultimo anno un po' di meno, però è un difensore che comunque solo l'ha fatto, è vero, ha sbagliato in più di una partita eccetera eccetera, però comunque direi che parliamo di un difensore che ha fatto la storia della Lazio, almeno in termini di presenze, e non era tanto scarso onestamente. Ed è sempre sembrato un giocatore attaccato alla maglia. Certo, questo ultimo fatto, il fatto che non accetti di andare in panchina alla Lazio, un po' cambia il concetto, il rapporto fra Radu e la Lazio, insomma, se sei così attaccato alla maglia accetti anche di andare in panchina, magari lottare il tuo posto, ma magari c'è qualcos'altro, magari in Zaghi ha espressamente chiesto di non averlo in rosa per non creare problemi, questo lo sappiamo. Però io vi ho elencato i motivi per cui porterei Radu Adoronzo. E voi che ne dite? Scrivetevi nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima!